Buongiorno amici, oggi ho visitato uno dei migliori distributori, Air Max Arms, in Italia, è L'Ademinon Raffaele. Ciao, amico. Ok, oggi abbiamo Costanti che viene a trovarci dalla Repubblica Ceca, da Praga, una città meravigliosa, dove producono Air Max, che conoscete già bene tutti, sarà lui oggi a introdurre la nuova, supercompatta, la nuova pistola, questa è una 5.5 con canna da 200 mm. Please, show me. This is our pistol, but it can be very easy to transfer to rifles, just use this stock, this stock, this is magnet system, and really easy to connect, you can use it without this screw, if you need more picks, you can do it really easily, so, possiamo usare l'accone senza la vite perché c'è un magnete che la tiene già in sede, il caricatore è sempre 16 colpi, l'azione sul lato sinistro può essere spostata sul lato destro, al serbatoio fisso con la spina di ricarica, al probe, può avere un moderatore incorporato davanti, slitta piccatinny, regolabile sul foggia guancia, regolabile sul foggia spalla, disponibile anche in legno. Questo è un prodotto molto molto interessante per un'attività plinking di altro livello e per i sele controllori per il pest control. Thank you for your visit and thank you for coming. Thank you. Bye bye. Ciao. Ciao.